E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo nuovamente su Scam, come promesso vi avrei fatto una bella guida su come iniziare al meglio su Scam Su come partire per poi arrivare al next level Allora, prima di tutto vediamo un po' i comandi Allora con V noi che cosa facciamo? Abbassiamo e alziamo la modalità combattimento come con i pugni, come con le armi Tasto destro con i pugni e vedete che noi siamo in difesa, ok? Poi, tab, apriamo l'inventario Noi qua abbiamo il quick access, le due slot dietro la schiena, le cose nelle mani Il nostro inventario è il vicinity, quindi noi quando passiamo accanto ad un oggetto qui a sinistra vediamo che cosa c'è Poi andiamo nel crafting Quelle cose segnate di rosso non si possono craftare Quando il rosso va via, tipo che diventano in questo modo, possiamo farlo E mentre queste cose Idem, vuol dire che non abbiamo oggetti Metabolismo Metabolismo, non vi spaventate Noi dobbiamo controllare un po' questa cosa, ok? E in questa zona Poi se uno vuole infognarsi, eccetera, si controlla tutto quanto Però, noi da questa parte più o meno troveremo physical injury Quindi se noi abbiamo qualche problema, qua ce lo dirà Noi basta buttarci delle bende Tanto ve lo dice, insomma, vi mettete delle bende quando tra parentesi appare scritto treated Vuol dire che è in trattamento e che tra un po' andrà via Qui vediamo un sacco di cose Ve lo spiego molto velocemente Questa zona, noi, questo è quello che mangiamo Questo è quello che bruciamo Noi, come in Ria, la dobbiamo bruciare quello che mangiamo Se no, ingrassiamo E non dobbiamo bruciare più di quello che mangiamo Se no, dimagriamo Quindi, cercate sempre di tenerlo al pari Poi, tantissime persone non sanno che Qui a sinistra noi possiamo vedere c'è Lange sotto la stamina Che ha energia Che dà dei bonus al personaggio Nessuno sa, o in molti comunque non sanno come aumentarla Molto semplice Aspettare Quindi noi una volta che abbiamo mangiato Deve fare tutta la digestione il cibo Qui deve passare dallo stomaco all'intestino Al resto delle cose E via Facciamo tutta la digestione e abbiamo l'energia Eventi, eventi Noi andiamo qua Possiamo creare le nostre cose I nostri eventi E siamo a posto Poi, percorrere Che cosa dobbiamo fare per correre? Dobbiamo C'è la rotellina Non è il classico shift Quindi noi con la rotellina indietro Camminiamo Rotellina una volta in avanti Corricchiamo Facciamo una mini corsetta Mentre la rotellina Più in su Più in su di tutte Iniziamo a correre Quindi Molto semplice Diciamo che in molti giochi Magari dobbiamo premere alcuni tasti Per dover camminare O magari non si può camminare E qui lo possiamo fare Ed è molto utile Perché se noi facciamo questa corsetta Di solito nei giochi classici Non usiamo la stamina Invece qua si Più pesi siamo E iniziamo a perdere la stamina Anche se facciamo la corsetta E adesso no Perché non ho niente Però se tipo Cioè magari volete Recuperare la stamina Siete pesanti Andate dritto camminando Così continuate il vostro viaggio E la stamina La recuperate Ora Passiamo a come iniziare Semplice E allora Per terra Search for rocks F Ci trova le rocce Tab Troviamo le due rocce Possiamo O andare in crafting Andiamo qua Allo stone knife E facciamo craft Oppure inventare Clic su uno Clic sull'altro Tasto destro Craft stone knife Quindi Ci mettiamo a costruire Il nostro coltellino Di roccia Dopodiché Lo prendiamo E ce lo mettiamo Va bene Nei pantaloni Poi lo prendiamo In mano Cosa dobbiamo fare adesso Dobbiamo craftarci le spiar Ci sono vari tipi di cespugli I cespuglietti piccoli Che se li tagliamo Se non mi sbaglio Ci danno I I bastoncini Ecco qua Che ci danno I piccoli bastoni Poi ci sono i cespugli medi Che vi danno Un Vi danno Due No Tre piccoli E Uno grande Mentre ci sono i cespugli grandi Che invece di quelli Di bastoncini grandi Ve ne danno Due Quindi noi qui abbiamo tagliato Un cespuglio grande E come vedete Abbiamo due Long wooden stick Noi che cosa dobbiamo fare? Noi andiamo in crafting Dov'è? Qua Improvised spear Quindi ce ne facciamo Ben tre Ok Una volta create Tutte le nostre tre Wooden Wooden spear Basta Cliccare due volte sinistro E ce le mette Direttamente Nell'inventario Tranne l'ultima Che non possiamo E la dobbiamo prendere E trascinare Nelle nostre mani Poi Una volta sinistro La usiamo Come arma Mili normale Teniamo premuto E la lancia Quindi La lancia normale Mentre per annullarlo Beh La cambiate E ve lo continuo a tenere E poi l'ha ricambiato Eh Le tattiche Quindi adesso Noi siamo in un punto Molto interessante Già con M si apre la mappa E noi siamo in A4 E ci vediamo già direttamente Dove siamo Molto utile Che tanti giochi survival Non vogliono fare Però secondo me Avere la mappa subito E farti vedere Dove sei E' la cosa migliore Che si possa fare In un survival Comunque Ehm Doi siamo in uno spot Un po' Un po' troppo OP Però vi faccio vedere Che cosa dobbiamo fare Noi adesso Se si fosse Ehm Se fossimo in una Cittadellina classica Dobbiamo crearci Ehm Questo zenito qua Lo Lo small Improvised backpack Che è sicuramente Più grande Dell'improvised Courier backpack Che cosa ci serve Serving kit O Il Bone needle O un needle Che sono Yagi Stone knife Quattro Long wooden stick Una Rope Oppure Cinque rugs Quindi Per fare le rugs Noi Noi Con il nostro Coltellino Di pietra Tasso destro Cut into rugs Però Le cose Diciamo che Ce le dovremmo ottenere Quindi senza farci Spottare dai mech Qui c'è uno zombie Ora Un sì Un puppet Ora là c'è un mech Quindi mi sparerà Sicuramente Va Solo Ok eccolo qua Questo è fuori Grande lui Ora vi faccio vedere Il miglior modo Su come poter Uccidere Il signor Puppets Allora lui ci rincorre Ci continua a rincorrere E cerca di prenderci Noi che cosa facciamo Quando è troppo vicino Gli diamo un colpo Se Gli riusciamo A dare un colpo Quindi lui indietreggia E poi Diretto in testa Se lo prendete in testa Lo uccidete subito Altrimenti no Quindi Tac F Su di lui E Madonna Dretto nell'occhio F su di lui Iniziamo a Fare search E gli rimuoviamo Tutti i suoi vestiti E tutti i vestiti Li possiamo prendere Potrebbero avere cose in task Non hanno niente E quindi noi Facciamo Tasto destro E cut In thorax Poi se voi Non possiamo spostare le cose Mentre il nostro mino Fa già altre azioni Ok Ci ha fatto Tre dirty rugs Quindi noi Le prendiamo Traxic top Ce lo possiamo Mettere sopra Ci sono i guanti Rag Strips Mi è venuto Il singhiosso Mannaggia a me E Sono le striscette Che non ci servono Quindi noi I guanti Ce li teniamo I pantaloni Li abbiamo già distrutti Ma noi Cut in thorax La nostra Maglietta Ok Una volta che abbiamo fatto I nostri vestiti Delle rugs Abbiamo le nostre Cinque rugs Che ci servono Poi che cosa facciamo F Per tagliare E mozzare Tutto il nostro zombie Mentre finisco di tagliarlo Ragazzi Vi ringrazio ancora Per tutte le persone Che entrano nel mio server Vi ricordo Come sempre In descrizione Trovate l'ip E il nome del server E da 50 slot Allora Noi Ci servono le ossa Tagliamo un braccio Quindi Chop Ancora il braccio Mi sa che dovremmo fare Un altro coltellino Speriamo di no Ma credo proprio di si Una volta che abbiamo tagliato Il braccio Piede O gamba Che sia Vedete che ci da Il grasso Delle Bistecche Che per essere umano Sono troppo belle E delle ossa Noi che cosa dobbiamo fare Con le ossa Dobbiamo farci Le cose belle Ma ci mancano le rocce Quindi noi per terra Search for rocks E ci ricraftiamo Ah Se ne ha messe sotto Quelle che ha trovato Nove si E ci ricraftiamo Uno stone knife Ok Quindi abbiamo di nuovo Il nostro super coltellino E andiamo da un osso E lo Dobbiamo Tagliuzzare tutto Craft bone Nitor Con il nostro coltello E l'osso Ricordate di selezionare il coltello E selezionare l'osso Tasto destro Craft bone Middle Quindi noi stiamo facendo Il nostro ago D'osso Che ci servirà Per fare il nostro Backpack Gnagnero Perché Se non mi sbaglio È un 4x4 Che è molto buono Per iniziare Quindi Crafting Cosa ci manca Il nostro coltello c'è Ci mancano 4 long wooden stick E una rope La rope di 5 metri È l'improvised rope Che cosa ci servono? 5 rug straps Quindi Inventory Ne abbiamo già due Tagliamo Una rugs E La rugs La possiamo fare In fascettine Quindi poi Ci serviranno Altre cose Da tagliuzzare Però Lo facciamo Senso problema Ok Una volta Fatte le nostre Rugs Tagliuzzate Ci facciamo La nostra Corda improvvisata Di 5 metri Adesso che Abbiamo fatto La nostra Corda La lasciamo Per terra Perché tanto Dobbiamo ritornarci Qua a fare Le nostre cose Ci mancano I bastoncini Piccoli E poi Dovremo Ritagliare Un po' Di rugs Però Come farli? O Tagliamo Quelli piccoli I Cespugli piccoli Se ne trovo Eccolo qua Che Ce ne danno 2 su 4 Però vi ricordo Che noi dovremo Portarli Dove Abbiamo Tutti gli oggetti Per terra E noi Non possiamo Prenderne uno E trascinarlo Non possiamo Nemmeno Poter Metterli Da qualche parte Però li possiamo Prendere in mano Quindi Una cosa Che io vi consiglio Di fare Prendete Il Il Long Quello lungo Che ve lo potete Mettere in mano Ve lo portate Dove Dove Avete fatto La vostra Matassa Di Di zombie Tagliuzzato Una volta che siete qui Tasto destro E Cut into Small Sticks Quindi noi adesso Al prezzo di un long Abbiamo due Small Quindi molto semplice Prendiamo uno lungo Ce lo portiamo Nella nostra matassa E ce lo tagliuzziamo Tutto Quindi ci servono Due Long Stick E quindi adesso Andiamo a trovare Prendere l'altro Perfetto Adesso che abbiamo Praticamente quasi tutto Quello che ci serve Possiamo Tagliare in rags I nostri pantaloni Che ce lo facciamo Direttamente Sulle gambe Ok adesso ci stiamo Tagliando L'ultima Pezzo Che ci manca Che era La nostra giacca Quindi andiamo In crafting Perché avevo letto male Che mi sono due Improviso in Provise Drop Pensavo Avevo letto Per uno Però abbiamo Il nostro zainetto Quindi possiamo Tagliarci anche I pantaloni La maglia Quello che vogliamo E ce la mettiamo A craftare Ok Quindi noi abbiamo Fatto tutto E ci andiamo a prendere Il nostro Super zainetto Che è un 4x4 Quindi Dopodichè Noi possiamo Soltanto riprendere La nostra spiar Che se riusciamo A trovarla Oh guarda L'ho trovata subito E andare In giro Tutto questo Se non si fosse In un In un hangar Così cazzuto Guardate Il coso Mi ha già visto Però io Me ne sono già andato Quindi non mi dovrebbe Più sparare Ok Scherzavo Mi sta sparando L'Otta Se ne sono andato Dall'area Stai calmo Quindi Vi ricordo Che uno zombie Vi attacca Voi avete Le vostre bellissime cose Attacca Lui smette Pam Lui va indietro E Badabam Dritto Nel viso Andiamo qua La prendiamo E ce la trasciniamo Altro trucchetto Voi Se uno zombie Non lo colpite Alla testa Non muore subito Quindi Che cosa bisogna fare Colpire Lo colpiamo Addosso E muore subito Perché questo era Quello più Più piccolino Ok Però quelli più Grassotti Ora se riesco Ne trovo uno E vi faccio vedere Cosa vi Volevo far vedere Ecco qua Allora Ciò che vi voglio far vedere Che uno grosso Resiste molto Molto di più Quindi Colpire Così lui si allontana E magari Gli ne tirate una Quindi ne riprendete un'altra E gliela ritirate Fate finta Che voi Le avete finite tutte Quindi io prendo questa E Oh mamma L'ho mancato Aspettate che lui si avvicini Andiate indietro Tab Due volte Tac E lo riprendete Velocissimo Quindi lui Tira un colpo Pam E l'abbiamo ucciso Quindi ragazzi Per questo video è tutto Io spero vi sia stato d'aiuto Spero l'abbiate visto tutto Vi ricordo sempre Che in descrizione Trovate l'IP Del mio server E tutte le altre Tutti gli altri link Al discord Al facebook E a tutto quello Che ci può essere sotto In descrizione Quindi niente Vi ringrazio per la visione Spero vivamente Che vi sia servito E che Vi Vi porti a qualcosa Questo video E niente Noi ci vediamo in un prossimo video Alla prossima Ciao 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 Ciao